Dal CIP e delle importanti novità anche dal punto di vista delle infrastrutture? È chiaro che io faccio il ministro in questo settore e quello che dico può anche essere interpretato come una difesa, ma non è così, se andiamo a vedere quello che abbiamo portato al CIP, le opere che sono partite, le infrastrutture ferme addirittura da 30-40 anni e che oggi invece sono i cantieri aperti, possiamo dire con scarse risorse, grazie ad un accordo con i privati abbiamo potuto far partire la infrastrutturazione del nostro paese.